in questi anni dei nuovi protagonisti che rendono più ricca e articolata la vita del mondo, che mettono in discussione equilibri, come probabilmente giusto e inevitabile, ma che si affacciano come protagonisti sempre più incisivi nella vita del mondo. Questo apre strade più ampie agli equilibri del mondo e anche all'eguaglianza nella comunità mondiale. E' vero, peraltro, quello che lei, professore, ha messo in bocca al protagonista del suo apologo. Vi sono elementi di rammarico, le diseguaglianze cresciute e ampiamente cresciute, la democrazia che sembra talvolta in difficoltà, con qualche affanno, anche se in realtà la democrazia ha sempre bisogno di essere realizzata epoca per epoca. di essere inverata particolarmente in una stagione come questa, in cui freneticamente cambiano gli strumenti delle relazioni sociali e i mezzi della comunicazione.